Contagi pressoché stabili in Irpinia dove oggi si contano 83 nuovi casi e due vittime, una 91enne di Monteverde e un 75enne di Serino. La buona notizia arriva dai vaccini, ieri sfondato per la prima volta il muro delle 4.000 dosi somministrate. Vedremo già dalle prossime ore se si riuscirà a mantenere questo trend. La Morgante alza già la sticella, siamo in grado di arrivare anche a 5.000. Per settembre l'Irpinia sarà immunizzata. Intanto però la guardia resta alta, specie in vista di questo weekend. Si preannunciano controlli serratissimi e a Serino il sindaco Pelosi chiude agriturismi e aree picnic per evitare la classica invasione del 1 maggio anche dalle province limitrofe. Proprio perché dobbiamo ancora essere attenti, dobbiamo usare molta precauzione, proprio perché adesso 10-15 giorni diventano fondamentali per poter poi eventualmente riaprire in sicurezza per tutta l'estate. Abbiamo preferito tenere sia i parchi privati che in tutte le aree ricettive all'aria aperta chiuse e interdire al pubblico anche tutte le aree verdi di proprietà pubblica, demaniale. Anche gli agriturismi saranno chiusi. Ci sarà un controllo su tutto il territorio, polizia municipale, carabinieri, guardie ambientali. Quindi un controllo è ovvio che ci deve essere. Ci auguriamo che vada tutto bene. Niente, ripeto, la nostra è una strategia perché guardiamo avanti, non indietro. E il Covid non ferma la chirurgia d'eccellenza. Al Moscati, intervento record dell'equip coordinata dai dottori Vincenzo Landolfi e Carlo Curcio del Monaldi, che ha consentito l'asportazione di un liposarcoma del peso di 4 kg e della lunghezza di 36 cm in un paziente di 56 anni di Avellino. Grazie. Grazie. Grazie.